Pavis è un'azienda innovativa nel settore degli articoli ortopedici e di contenzione addominale con cui Clinica Mobile collabora ormai da due anni. Pavis propone una vasta gamma di presidi innovativi ed efficaci nella fase riabilitativa post-traumatica nonché preventiva. Un'azienda italiana che si caratterizza sul mercato per la qualità dei suoi prodotti 100% made in Italy e per un'organizzazione molto integrata dalla ricerca e sviluppo alla tessitura alla produzione e commercializzazione. Il punto di forza dell'azienda è la capacità acquisita nel corso degli anni di creare tessuti innovativi e confortevoli. Gli obiettivi principali sono il benessere ed il comfort del paziente. Questa cavigliera viene utilizzata nelle fasi croniche post-distorsine di caviglia ma è anche ottima nella riabilitazione e nella prevenzione delle stesse. La caratteristica è l'assenza di cuciture nella pianta del piede a taglia unica, ha una facilità di applicazione. La traumatologia del motociclista in pista è un qualcosa di ben definito grazie all'esperienza di Clinica Mobile ad una serie di studi scientifici che sono stati portati avanti da Clinica Mobile. In particolare per quel che sappiamo in base alla nostra esperienza i traumi che maggiormente affliggono il motociclista riguardano i traumi delle mani, dei polsi, dei piedi e delle caviglie e i traumi della spalla e delle clavicole. Nel corso degli ultimi due anni grazie alla collaborazione tra Pavis e Clinica Mobile sono numerosi i piloti dei campionati del mondo del motociclismo che hanno potuto utilizzare i presidi ortopedici Pavis. In particolare i piloti ne apprezzano le caratteristiche dei tessuti molto delicati e confortevoli adatti a qualsiasi tipo di pelle. Inoltre sono tutori che danno un ottima stabilità ma una stabilità funzionale che quindi permette comunque dei movimenti e non l'immobilizzazione totale assoluta di ampi tratti che sarebbe deleterio per il recupero rapido del pilota. È molto importante in una fase rehabilitativa in cui si effettuano numerose sedute di fisioterapia poter rimuovere e riposizionare frequentemente in tempi rapidi i presidi e questa è proprio una caratteristica dei presidi Pavis. Grazie a tutti. Grazie a tutti.